Apri gli occhi, dà un'occhiata a ciò che ti circonda. Com'è il panorama? Ti piace ciò che vedi? Ora ripensa a quando eri piccolo. Stai vivendo la vita che avevi immaginato di avere, di vivere? O stai ancora sognando che accada qualcosa di diverso, di migliore? Perché ci proviamo quando sappiamo che le difficoltà sono tante e le possibilità poche? Perché non prendiamo su tutto e ce ne torniamo a casa? Sarebbe molto, molto più semplice. Lo facciamo perché, in fin dei conti, le cose facili non portano alla gloria. Nessuno ricorda le cose semplici. Ricordano il sangue, le ossa e la lunga sofferta scalata per raggiungere la vetta. Ed è così che si diventa leggendari. Questa non è stata una battaglia sofferta. Io ho sofferto perché ho lottato fino alla fine per ricomporre i pezzi di un puzzle che era il mio. Aveva inciso un sogno che poi è stato infranto. E allora, pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, con tanta, tanta pazienza, ho cercato di ricomporlo. E più arrivavo al risultato finale, più mi rendevo conto che non era più come prima. Un nuovo sogno. Allora ho lasciato andare quello vecchio e ho accolto quello nuovo. E da quel momento sta andando tutto al suo posto. Naturalmente, da solo. Perché ho imparato che quando un sogno muore, bisogna essere capaci di costruirne un altro. Ora c'è serenità. Ora posso finalmente dire non è stato facile ma ce l'ho fatta.